Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Io sono Rossella e sono una maestra di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce. Mi trovo qui con Anita Illes che ha partecipato al percorso di coaching di due mesi per imparare a connettersi con le nuove frequenze. È qui con noi perché vuole lasciare la sua testimonianza e ci vuole raccontare com'è andata. Anita, cosa ci vuoi raccontare? Com'è stata questa esperienza per te? È stata veramente una bellissima esperienza. Prima di raccontare questo volevo dire assolutamente una cosa. Quando ti ho conosciuto, Rossella, è stato veramente un caso che non esiste intanto perché ho visto la tua pubblicità e mi hai conquistato, hai conquistato il mio cuore proprio con l'atteggiamento che hai avuto all'inizio perché ho detto guarda non so se riesco a cominciare questo percorso, mi piacerebbe tantissimo e tu hai detto ma non ti preoccupare, mi hai rassicurato tantissimo, mi hai mandato le preghiere, intanto fai queste cose. C'è stato veramente hai dato tanto. È partito così il nostro rapporto che tu hai dato tanto. Come io ho messo l'intento che volevo assolutamente partecipare, sono riuscita a fare e sono stata molto molto contenta. Questo è già stato un inizio per me fantastico perché ci tengo assolutamente dire prima di raccontare come è andata che tu sei una grande professionista, una persona che io ammiro tanto e oltre che ammirare voglio anche tanto bene perché sei una persona che dà tanto, dai molto di più di quello che prometti con i tuoi corsi perché poi continui a aggiornarti, immagino che ti arrivano le canalizzazioni nuove, quindi continui a mettere cose in più di quello che non era nel programma del percorso, quindi veramente io ti lo bovo. Grazie Anita, che bella che sei, grazie. È reciproca la cosa, assolutamente. Io ho una grande stima di te, tu sei una grande maestra e non vedo l'ora di partecipare ai tuoi corsi perché poi veramente la legge dell'attrazione ci fa connettere con persone che vibrano nella stessa frequenza, no? E quindi non è un caso che ci stiamo incontrate, ne sono certa. Vai avanti, non volevo... Grazie, grazie. No, no. Allora, il percorso è stato veramente molto molto bello. Quello che mi è rimasto tantissimo dopo che abbiamo concluso, proprio vedere il viso delle persone, come hanno cominciato e come hanno concluso, cioè ci avevano più luce. Poi c'erano quelle persone che magari si vedeva che veramente avevano bisogno, ma proprio bisogno fondamentale di questo percorso e atteggiamenti, che c'era un partecipante, a mio avviso, all'inizio aveva atteggiamenti un po' meno positivi, insomma. E come si è trasformata questa persona facendo tutto ciò che tu ci hai insegnato, è stato veramente molto bello. Parlando di me, per me è stato ancora più bello perché io già lavoravo con Arcangelo Michele, che è una delle mie guide. Questo ti ho già condiviso con te. Però pregare, contattarmi in questa maniera come hai fatto tu con Arcangelo Michele è una cosa pazzesca. Sono veramente molto molto grata per gli strumenti che ci hai dato perché tante roba. Soprattutto di imparare da una guida, da un insegnante come te, un maestra, non lo so neanche come definirti perché sei tanta roba, insomma. Imparare da una persona che ha canalizzato direttamente queste cose, cioè vai direttamente al fonte. Quindi per me è stato un grandissimo onore. Sono veramente molto grata di averti conosciuta, aver potuto partecipare a questo corso, che stiamo facendo un altro corso insieme, perché tu proponi veramente cose molto molto belle. Quindi mi ha aiutato tantissimo di essere ancora più connessa, assolutamente con Arcangelo Michele. Ha aiutato anche tantissimo, per esempio, dei miei corsi quando si lavora con il gruppo. Ovviamente ha fatto in modalità mia, però le tue preghiere sono fantastiche. Ascolta, un po' delle frequenze. Le preghiere assolutamente sono uno strumento potentissimo. Ma come è stato per te accedere a questo livello vibratorio delle nuove frequenze di luce? Come le sentite? Come le percepite? Hai avuto delle esperienze particolari? Dimmi un po'. Sì, 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 sì. Allora, ma facendo il lavoro con le frequenze è stato veramente bello perché ogni volta quando sentivo la presenza di Arcangelo Michele avevo brividi ovunque. Sentivo questo calore nel cuore e brividi fantastici. Bello. Ricevere è veramente bello perché sentivo proprio dove si lavorava. Non lo so se sentono tutti, io parlo della mia esperienza. Sentivo dove lavorava e fatalità andava lì dove serviva. Che bello, bello. Sì, è bellissimo. Dimmi, dimmi. No, no, dimmi, dimmi. E poi è bellissimo anche fare per le altre persone perché proprio usando il cuore e queste frequenze che più ti entri nel tuo cuore, più sono potenti. Ovviamente non siamo noi che facciamo questo lavoro, fa Arcangelo Michele, ma se sei un canale pulito, ancora più potenti. Quindi fare per le altre persone e sentire le loro testimonianze e poi dopo, sai che mi sento meglio, mi è passato un dolore e tutte queste cose riempie il cuore. Assolutamente. Anitta, tu a chi consiglieresti questo percorso? A tutti. A tutti. Che domanda è? No, no, a tutte le persone perché porta veramente una ricchezza indescrivibile per la nostra vita, già solo se usiamo per noi. Figuriamoci se usiamo anche per le altre persone. Quindi queste nuove luce, questo sentire, questa divinità che ci avvicina a noi, si entra dentro di noi, questa vibrazione è tanta roba, è tanta guarigione e quindi fa bene a tutti. Quindi partecipate assolutamente, raccomandato a tutti. No, poi si vede che sei entusiasta. Io veramente ti ringrazio per questa tua condivisione perché può essere di aiuto per le persone che magari vogliono capire di più, no? E anche attraverso l'esperienza di altre persone questo è possibile. Io ti ringrazio veramente col cuore, ti abbraccio forte, 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 anima luminosa e a presto. Un bacione a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.